ci siamo, ci siamo, ci siamo eccoci, eccoci non so, ragazzi, diteci dove siete rimasti gentilmente F5 stiamo parlando comunque delle complicanze per quanto riguarda la sentenza del sindaco Mimbo Lucano, eravamo a Mimbo Lucano disobbedienza civile le cose che lui rivendica come disobbedienza civile non per forza sono quelle della condanna, non avendo studiato le carte però diciamo che comunque penso che anche Lucano abbia avuto il coraggio di andare contro delle leggi che impediscono una vera accoglienza che può anche essere nell'interesse di una comunità perché ha fatto vivere un paese che altrimenti era in una grande crisi quindi sì, è una vicenda di questo tipo quindi diciamo che l'ina di massima se l'intenzione fosse effettivamente questa quindi positiva per aiutare potrebbe configurarsi come una sorta di disobbedienza civile poi ovviamente le implicazioni tecniche anche a livello economico disobbedienza civile vuol dire violare la legge assumendosene la responsabilità naturalmente uno lo può fare anche per una cosa stupida io dico io non sono d'accordo con i parcheggi per i disabili e quindi metto la mia macchina e me ne fotto e vado dal vigile e gli dico oh io l'ho messa là perché me ne fotto certo è una disobbedienza civile sì, è una stronzata sì quindi non è che se fai una disobbedienza civile c'hai ragione però almeno invece di mettere in pericolo semplicemente le cose degli altri la salute degli altri la libertà degli altri ti metti in gioco in prima persona e questo credo che sia utile soprattutto su temi su cui invece la politica è così lontana al progresso anche perché se si fanno solo le cose secondo me è utile disobbedire civilmente secondo la propria morale se sei una persona comunque che ci ha ragionato e decide proprio di fare una cosa del genere evidentemente ci sarà una volontà di spaccare uno schema di andare oltre anche per le proprie idee che comunque si ritiene valide anche se magari non lo sono però in questo caso penso di sì però per una causa giusta oppure che non viene percepita cattiva la legge può reagire in maniera come posso dire leggermente diversa quindi magari non punire severamente come con un intento negativo però sulla stessa cosa una disobbedenza civile che fece pannella molti anni fa proprio sulla cannabis venne riconosciuta una attenuante la formula vado a memoria poi io non sono un avvocato né un giurista è quella dell'alto valore morale civile della sua azione quindi c'è la possibilità per lo Stato di applicare una pena meno severa quando riconosce che chi ha affrontato un reato alla luce del sole lo ha fatto con una finalità diciamo così civile sociale però ecco non è detto lo Stato può anche dire hai violato la legge e io ti condanno questo diciamo che va un po' a discrezione del giudice beh sì anche perché giustamente dipende dalla situazione perché se io dico che in disobbedienza civile come dice uno in chat faccio una strage non avrò l'alto valore morale riconosciuto secondo te secondo la tua morale quindi ti sto chiedendo qual è il limite ad esempio un'azione di disobbedienza civile che hai visto in questi anni che secondo te non è scusata tra virgolette con un intento nobile se hai qualche esempio allora secondo me adesso mi viene in mente una cosa non so neanche se chiamarla disobbedienza civile quando per la nobile causa dei diritti delle persone omosessuali transessuali bisessuali eccetera eccetera si va a sputtanare pubblicamente il nome di un chiamiamolo finto etero magari una personalità pubblica ok non mi ricordo mai se si chiama outing outing è quando lo fanno gli altri l'outing un outing secondo me l'intento è anche nobile ok francamente non mi piace perché intacchi comunque eh sì non lo rispetti alla fine certo se stessimo parlando di Hitler che lo sputtani su una qualsiasi cosa e magari così contribuisci a fermare dei crimini allora credo che addirittura la violenza possa essere giustificata cioè i partigiani tutti ancora li riconosciamo come no non è che i partigiani hanno anche fatto dei crimini ci sono state anche azioni ehm non particolarmente incomiabili o degli errori gravi no però eh non è che non è che diciamo eh no beh questi erano dei brigatisti era una cosa diversa quindi non ci sono gli assoluti è un giudizio soggettivo anche la violenza in alcun l'uso della forza può essere giustificata per fermare la violenza degli altri io penso per me il limite per me secondo me è importante eh potersi riferire sempre al diritto a dei principi di diritto cioè è vero che ho violato quella legge del 1930 che vieta l'aiuto al suicidio ma nel farlo ho rivendicato il valore superiore della Costituzione e della libertà e responsabilità individuale in altri termini ho detto quello che poi in parte la Corte Costituzionale ha riconosciuto questa legge la violo perché ce n'è un'altra più grande più importante ma questo vale anche sulla cannabis cioè per me il fatto di io sono stato arrestato a Manchester molti anni fa per una disobbedienza civile sulla cannabis perché avevano arrestato un gruppo di malati che autoproducevano e vabbè e siamo andati al processo e abbiamo consegnato alla polizia in Gran Bretagna delle piccole quantità di hashish e siamo stati arrestati e poi ho fatto tre giorni di carcere ho violato la legge sì ma l'ho violata nella convinzione che lo Stato andando a impedire a un malato ma anche a un ragazzo non necessariamente malato andare a impedire con la minaccia del carcere del ritiro della patente eccetera di esercitare il diritto a consumare una sostanza alcune perché poi l'alcol è perfettamente legale fa 30.000 morti l'anno lo trovo una violenza di Stato e una violazione della Costituzione e della libertà fondamentale ovviamente questa è la mia idea si può trovare una persona che nel momento in cui noi legalizzassimo farà una disobbedienza civile contro la legalizzazione quindi è sempre disobbedienza civile chiaro tu a proposito di questo non si tratta di disobbedienza civile ma torniamo sul tema che dicevamo quindi fare un'azione che magari può sembrare non corretta con un altro fine hai seguito un po' l'inchiesta di fanpage su Fratelli d'Italia e Mario ok là per esempio c'è stato un giornalista che si è infiltrato con una camera riprendendo determinate cose hanno fatto poi uscire il servizio a ridosso delle elezioni eccetera tu come lo vedi come interessa il servizio quello che hai visto almeno perché quella è la prima parte lì c'è il diritto di cronaca nel senso che in generale quello che ti è sembrato vedendo quel servizio ma allora secondo me da un punto di vista così legale ho trovato più preoccupanti le allusioni ai meccanismi dei soldi dei finanziamenti illeciti che non le battute del camerata la destra eccetera perché io ho l'impressione che se ci filmassimo nel nostro privato le bestialità che ciascuno di noi dice e poi ce le trovassimo al telegiornale uno dice mamma mia che cosa ho detto no? è il tenore delle nostre serate pure quello alla fine solo che noi in modo ironico è chiaro che gente che magari ha passato decenni di militanza politica nella destra e che comunque che viene da quell'esperienza magari pure se da quell'esperienza è uscito ma anche se parliamo di comunisti ci sarà quello che fa la battuta come stavamo bene con Stalin o con cioè non lo so ecco non mi piace non mi piace ovviamente vedere le battute sull'ebreo su High Liter però francamente le trovo diciamo cose la questione sulla quale un approfondimento poi magari non è vero niente erano tutte millanterie però se uno dice a quello che crede essere un imprenditore guarda mandami soldi ci sono le lavatrici fa il black questa roba ecco questo questo è più pericoloso perché riguarda il funzionamento della democrazia cioè ci sono delle leggi che obbligano chi versa dei soldi alla politica di farlo in modo chiaro con delle rendicontazioni anche per evitare che la politica poi debba obbedire a degli interessi che non sappiamo chi sono ma infatti il discorso diciamo sul gesto era proprio di farlo uscire il giorno prima delle elezioni così avrebbe dovuto rispettare il silenzio elettorale infatti anche loro è stato visto come un gesto comunque radicale cioè nel senso perché è stato criticato ma perché l'avete fatto siete stati dei bastardi in realtà noi abbiamo fatto questo ragionamento qui se questi giornalisti questo giornalista ha veramente la paura fondata che questo partito possa comunque mettere a repentaglio la sua nazione in questo caso l'Italia è giustificato a mio avviso un gesto radicale a tal punto da anche attaccare eventualmente per fare più danno possibile al partito che stai attaccando con il tuo partito con il tuo servizio se tu fai un servizio del genere è ovvio che l'intento sia quello se poi ti pensai quando fa l'usci è pure ovvio io ho rivendicato la loro scelta strategica eppure io tu devi sapere come colpire e quando colpire il come colpire se lo so costruito bene il quando è pure soprattutto diciamo che se non dici cose false cioè se non manipoli il servizio che hai fatto sta nella tua libertà di cronaca decidere che taglio dare quando trasmetterlo cioè il giornalista non è un pubblico ministero un magistrato allora la giustizia ha il dovere di essere neutra e impeccabile per cui nel momento che è un giudice che magari si scopre che ha tenuto un'inchiesta dieci mesi in un cassetto e l'ha tirata fuori con l'intento di allora questo è politicamente e anche giuridicamente censurabile se un giornalista che ha fatto un'inchiesta la fa uscire quando gli pare ma tra l'altro noi quando l'abbiamo visto abbiamo anche detto questo cioè vorrei che rivendicassero proprio questa scelta infatti poi fa un peggio risposta detto beh secondo noi è assolutamente di interesse nazionale rendere diciamo più consapevoli gli elettori di determinate situazioni poi che parte di quello elettorato sia anche felice magari delle battute oppure del black perché vedono per loro è stato tipo un vlog questo è chiaro anche per quanto mi riguarda la parte del nero eccetera ma anche la facilità con la quale una persona si può tranquillamente infiltrare all'interno di un partito italiano senza nessun tipo di controllo e finanziare così poi ovviamente sono le parole di quella persona del famoso barone nero e di altri esponenti lì presenti che sono sicuramente braccio destro tra meloni braccio sinistro e braccio centrale diciamo così andranno poi provate ovviamente è stata aperta un'inchiesta quindi si vedrà magari come dicevamo prima e come abbiamo ripetuto anche in live non ci sarà un reato io non credo ad esempio ci sia quello di apologia di fascismo perché come dicevamo alla fine è un contesto ben o male privato no allora le cose prima ho detto la cosa il salinismo il fascismo il nazismo ovviamente le parole possono anche avere poi dietro degli atti e delle cose gravi bisogna fare bene la differenza la libertà di espressione include la libertà di dire bestialità di dire cazzate di dire anche cose di per loro molto violente a favore di dittatori sanguinari espressioni razziste però un conto se io le dico sul divano con un mio amico è un altro conto se le dico a un telegiornale o addirittura se a quelle parole unisco la incitazione all'odio cioè se io prendo un microfono in televisione in una radice e comincio a dire siccome i brianzoli io sono brianzolo quindi nessuno si offende i brianzoli sono inferiori dobbiamo uscire e bastonarli tutti allora attenzione lì non è più la libertà di espressione lì c'è il rischio che qualcuno ti ascolti ti segua uno dei peggiori genocidi della storia il genocido in Ruanda è stato condotto da una radio la radio delle centocolline mi pare si chiamasse dove in diretta davano indicazioni di dove era l'etnia contro la quale dovevano prendere e andare a massacrare allora ovviamente quella non è libertà di espressione non è una battuta infelice squalida che fai credendo che non ti ascolti nessun altro che il tuo ristretto ristretto cerchio la diventi un Charles Manson praticamente è mandante tra l'altro abbiamo anche comunque dei precedenti nel senso che poi il famoso barone nero era stato già condannato per apologia sappiamo che comunque quel partito molto spesso strizza l'occhio ad una determinata rappresentanza insomma fascista neofascista e il fatto secondo me che comunque la Meloni pubblicamente nella sua risposta non abbia minimamente fatto alcun accenno a tutta la componente fascista anche la componente finanziaria diciamo fa riflettere il fatto che non si distacchino mai da quella roba lì non ha fatto accenno a nulla nulla minimamente diciamo che possiamo anche vedere un po' il marcio che c'è e questa diventa una valutazione politica e io sono d'accordo politica politica non per quanto riguarda il reato se una persona ha detto una bestialità non lo andrei arrestare o a punire per la bestialità dopodiché effettivamente che un partito con i sondaggi al 20% di fronte a a meno di contestare la veridicità della registrazione di fronte al fatto che esponenti di primissimo livello facciano battute esplicitamente nostalgico razziste eccetera non è un problema di codice penale è un problema politico se tu non dici chiaramente quella roba non mi rappresenta non rappresenta il mio partito eccetera significa che probabilmente conti alle elezioni di portarti a casa di continuare a portarti a casa una parte di cui voti e qui però torna al discorso che facevi anche su Ruanda anche se chiaramente in maniera minore cioè se questo partito è ben consapevole di alcuni elementi all'interno dello stesso e soprattutto del suo elettorato che ama questo tipo di narrativa beh allora un problema c'è fai sicuramente anche il male un po' della tua nazione se continua ad alimentare anche sotto traccia anche senza dirlo mai esplicitamente questi pensieri qui certo un problema c'è però per me è molto importante tenere distante la cosa politica è la prima cosa che abbiamo detto anche perché a volte se un movimento un partito un'organizzazione viene messa fuori legge poi non è detto che le cose migliorino perché almeno delle situazioni legali possono essere un minimo controllate il rischio è che e questo è successo anche ai tempi del terrorismo in Italia quando una serie di organizzazioni poi sono state in vario modo messe all'indice questo non solo non ha prevenuto ma ha quasi aiutato a scegliere la strada della violenza organizzata esplicita quindi secondo me è importante distinguere l'aspetto giuridico penale dall'aspetto politico sì sì assolutamente senti si è parlato molto di libertà individuale di diritti per quanto riguarda la pandemia io vorrei sapere il tuo punto di vista per quanto riguarda tutto ciò che sta succedendo dove siamo arrivati adesso se si sta gestendo bene secondo te in Italia allora sicuramente sono stati fatti enormi errori con l'associazione Luca Coscioni abbiamo per esempio a un certo punto lanciato l'allarme di alcuni scienziati sul fatto che ci fosse letteratura scientifica internazionale che sconsigliava alcuni vaccini tipo AstraZeneca ai giovani e invece c'è stata la gola gli open day sembrava che no e quindi si davano tutti i vaccini a tutti e questo è stato uno degli errori un altro errore è stato quello della comunicazione l'assenza di una comunicazione istituzionale per cui tutto era affidato ed è affidato al talk show al dibattito dei virologi quello che vuole aprire quello che non vuole aprire anche dei sindaci un po' sceriffi e mancava un autorevolezza tipo Piero Angela che è un novantenne che però un'autorevolezza della comunicazione un altro elemento grave è l'assenza di pubblicazione dei dati in formato aperto e liberamente scaricabile il cosiddetto open access e gli open data ancora adesso su tutto sui contagiati i vaccini quelli che si vaccinano che si ammalano tutte queste cose danno vita a tutta una serie di anche falsificazioni leggende metropolitane perché i dati che abbiamo noi sono solo quelli di sintesi cioè quanti sono i contagiati oggi quanti sono i morti oggi ma non vengono pubblicati quelli che gli esperti di dati chiamano i dati disaggregati cioè i dati per ciascuna persona ovviamente anonimizzati che potrebbero darci informazioni in più di come si sta gestendo la pandemia detto tutto questo non credo francamente né alle teorie complottistiche né a trasformare alcuni punti di debolezza e anche un po' di propaganda sui vaccini sulle cose in una ragione per credere alla tesi opposta cioè per cui allora Novax ecco questa roba mi sembra che non faccia i conti con una realtà scientifica che non è mai diciamo dichiarata per sempre perché la scienza procede per prove ed errori quindi non è che noi abbiamo adesso la certezza assoluta di quello che sta accadendo però mi sembra che il fatto per esempio che gli aspetti più pericolosi della pandemia le ospedalizzazioni le morti siano messe diciamo ragionevolmente sotto controllo dalla campagna di vaccinazione mi sembra si possa dire che è un dato di fatto per quanto riguarda invece ad esempio l'aspetto psicologico degli individui soprattutto durante la quarantena se ne è parlato rolli psicologici di questo tipo voi ne avete parlato un pochino allora questa è un'assistenza che c'è stata anche un'assistenza gratuita al sostegno psicologico sicuramente però secondo me è stata presa un po' diciamo con meno serietà anche il fatto che magari alcune cose come tutto ciò che riguarda lo sport eccetera sia stato insomma privato ai cittadini per molto tempo anche musicisti attori adesso poi c'è un po' quella contraddizione tra comizi politici è uscita anche un po' la polemica in seguito alle varie uscite veramente da rockstar dei vari Conte Salvini eccetera quindi anche su questo vi siete un po' battuti allora sì c'è Fabrizio Starace che è uno psichiatra dell'associazione Luca Coscioni che è dentro al comitato nazionale adesso l'istituto superiore di sanità e il comitato adesso non mi ricordo il nome tecnico che ha spinto molto perché il G20 che si è tenuto a a Roma in Italia nelle scorse settimane abbia anche un capitolo dedicato alla salute mentale c'è uno studio della London School of Economics che dice che per ogni sterlina spesa per la salute mentale significa risparmiarne 17 per lo Stato perché significa meno violenza meno malattie poi a valle perché poi la persona con problemi di salute mentale è esposta ad ammalarsi molto di più a tutte le altre patologie banalmente produce di più un cittadino non depresso esatto alla fine nell'ingranaggio e su questo c'è un altro elemento invece proprio di proibizionismo è che in tutto il mondo tutto il mondo è esagerato però negli Stati Uniti in Gran Bretagna in alcuni paesi si sta ormai da anni ritornando a fare ricerca sugli psichedelici contro la depressione anche in alcuni casi sui malati terminali quindi l'MDMA che poi è la base diciamo exas eccetera sta per essere riconosciuto dalla Food and Drug Administration americana nel trattamento della depressione c'è l'LSD anche si studia l'ayahuasca il DMT la psilocibina tutte queste cose e in Italia tutto questo non si può fare questa è un'altra delle cose che cerchiamo di seguire con l'associazione Luca Coscioni negli Stati Uniti ci sono stati dei referendum non solo sulla cannabis che ormai è legale in molti stati degli Stati Uniti ma ci sono stati e hanno vinto due referendum anche sulla psilocibina la copertina di Newsweek è stata dedicata a questo quindi secondo me il tema della salute mentale e dell'antiproibizionismo non solo sulla cannabis ma sulla ricerca scientifica sugli psichedelici è un fronte molto importante da aprire per la politica ancora io sono un italiano provinciale che è cresciuto da genitori italianissimi ho immaginato mia madre che poteva sentire questo discorso fare mamma mia l'LSD e quell'altro i psichedelici e mettiamo immagini dai MDMA a tua madre spacca chiaramente si parla di un approccio medico non è che te la prendi perché sono depressa stavo a dire che in Italia era per dire che in Italia ci sta ancora questo preconcetto per quanto riguarda quest'altro tipo di droghe non si sa nulla va affatto informazione quindi volevo un attimo sapere appunto se dovessi tranquillizzare mia madre cosa le diresti per quanto riguarda tutte queste droghe ma intanto non mi ci metterei io la farei parlare con chi ne capisce e chi studia sul piano scientifico perché naturalmente io le posso dire a tua madre le mie esperienze non so quanto potrebbero interessare però è evidente che come sulla cannabis però pure io che sono giovane c'è un po' questo stigma che me l'hanno dato i miei genitori quindi anche io vorrei essere informato per quanto riguarda tutto ciò sì allora intanto di base sostanze che si comprano al mercato nero sono per definizione più pericolose perché non sai cosa ti prendi non sai cosa c'è dentro nella cocaina che si vende sì c'è cocaina a volte ce n'è un po' ma c'è dentro un sacco d'altra roba che chi se la inala non sa di che cosa si tratta quindi un primo ragionamento è il controllo di qualità e la possibilità di prevenzione c'è sulle sostanze illegali sulle sigarette puoi scrivere qual è la composizione la nicotina nuace gravemente la salute la gradazione dell'alcol e invece sulla droga che si compra nella criminalità questa attività è impossibile quindi questo è un primo elemento di preoccupazione aggiuntiva su queste droghe poi c'è l'aspetto medico scientifico terapeutico sul quale evidentemente devono parlare i medici perché poi non si può neanche esagerare a volte leggo sulla cannabis delle robe miracolosa certo io ero mi sono tagliato un braccio fumato mi si è riattaccato il braccio ecco che era lizard non esageriamo intanto ringraziamo Rick Duferre e tutti gli altri sub grazie mille ragazzi ovviamente non volevamo interrompere Mark tra l'altro senza braccia senza gambe tra l'altro io credo che su questa cosa qui di cui stiamo parlando la politica cerchi proprio di brutalizzare il dibattito anche adesso in seguito allo scandalo del social media manager di Salvini quindi di Morisi è uscita fuori un po' questa contraddizione che in realtà è abbastanza evidente cioè cercare di mettere nel calderone tutto droga droga fa male è brutta è schifosa è cattiva è morte è un gol di Ibra la droga è morte e poi metti Salvini con l'occhio abbottonato un po' di anni fa ma al di là poi della sua epocrisia è proprio un voler mettere la testa sotto la sabbia e non affrontare quelli che sono i problemi reali è semplice è anche un modo per spaventare certo perché se non ho avuto alcuna esperienza non so nulla eccetera e mi si dice che non so c'è questo imbroglio statistico che si fa il 99% di chi si fa di eroina prima aveva provato la cannabis questo anche un ragazzino delle elementari sa che la correlazione statistica la devi fare al contrario perché se no allora avrai che il 100% di chi si fa di eroina prima di farsi di eroina nella sua vita aveva bevuto una birra o un bicchiere di latte quindi questa è proprio una cosa statisticamente da imbecilli che detta con sicumera uno dice ah caspita è vero però infatti questa è l'arma principale che io sento anche in contrapposizione a quello che dici tu però se lasciamo il via libera per la cannabis poi succederà il finimondo in realtà secondo me questa cosa può essere vera nel caso degli spacciatori perché ovviamente lo spacciatore ha un interesse nel portarti sempre ad essere più dipendente da lui quindi ti dà prima magari la cannabis e poi passa ad un qualcosa che ti crea più dipendenza ed è proprio per questo che mantenere questo stato qui delle cose può creare questo problema assolutamente cioè una delle cose positive di un negozio di liquori è che non è che mentre ti compri il cognac poi quello ti fa l'occhiolino e ti dice ho delle pastiche qua che mi sono arrivate no compri il liquore fa male il liquore ebbè se ti bevi un bicchierino dopo cena mentre ti guardi la televisione non fa male se ti fai una bottiglia di liquore e magari poi prendi la tua macchina o collassi o tiri sotto qualcuno perché è più culturalmente accettato e la gente ha imparato nel corso dei secoli a dosare con questa sostanza che si conosce tutti Salvini tutti presenziano ogni anno Alvin Italy come se fossero loro a vendere il vino e ho capito il vino ci può essere il vino di qualità consumato senza che faccia particolarmente male anche se una bugia che viene raccontata è la differenza tra l'alcol e la cannabis è che l'alcol in piccole dosi non fa male anzi fa bene invece la cannabis in piccole dosi perché è droga non è vero allora l'alcol anche se nessuno lo dice ma i rapporti dell'OMS ufficialmente eccetera l'alcol è cancerogeno anche in piccole quantità poi ovviamente se uno beve un bicchiere di vino è un conto se se ne stacco la tannica di vino in plastica al metanolo per strada alcolizzato tutto il giorno non è solo il cancro è la cirrosepatica il collasso e tutto grazie delfina per il sabbo quando si parla di LSD e di cose è sempre presente grazie mille e poi il punto è proprio questo come diceva anche Simone il dibattito l'informazione anche banalmente il retaggio culturale che abbiamo ha portato le persone ad un utilizzo più consapevole dell'alcol della nicotina magari o di altre sostanze che possono dare dipendenza invece questa cosa in Italia non viene fatta su altre chiamiamole droghe in maniera generica proprio perché evidentemente conviene così perché non vogliono affrontare un qualcosa che sicuramente è impegnativo perché partire oggi punto zero è ovvio che si tratterebbe di riformare tutto tutto quello che brutalmente invece è stato ridotto a schifo anche perché grazie Fabiola anche perché sì è chiaro che la droga come qualsiasi altro abuso faccia male è anche vero che alcune droghe pesanti possono creare delle forti complicazioni anche ad un'assunzione per carità però se comunque questo fenomeno esiste ignorarlo totalmente allora i dati della direzione nazionale antimafia parlano di 6 milioni di consumatori già questo ti dice la fortuna della legge sulle droghe è che non è applicata perché se dovesse essere applicata non ci sarebbero 60 mila detenuti ce ne sarebbero 10 volte tanto come minimo i più complottisti a me distinto al complottismo non mi piace sostengono che allora non si fa perché se no la mafia allora si vuol la politica vuol fare un regalo alla mafia oppure la politica vuol fare un regalo alle aziende farmaceutiche oppure ai produttori di alcol o ai produttori a volte ci può anche essere del vero sul fatto che non so quando la cannabis è stata resa illegale c'erano degli interessi dietro non lo posso escludere però io temo ed è più pericoloso perché se ci fosse un grande vecchio che organizza al proibizionismo è successo sicuramente in passato sì sì però basterebbe prendersi la gol il grande vecchio qui invece c'è un misto di ignoranza di paura di demagogia del fatto che è più facile dire la campagna di Reagan era Ronald Reagan presidente degli Stati Uniti just say no sua moglie Nancy lo diceva basta che dici di no sì sì penso che è bello semplicissimo basta che dici di no io sono stato all'ONU ero delegato allora del partito radicale trasnazionale traspartito nel 98 più o meno c'era il summit mondiale il summit mondiale sulla lotta alle droghe sì 190 paesi riuniti e lo slogan era 1998 1998 2008 cioè i prossimi dieci anni è drug free world we can do it un mondo libero dalle droghe possiamo farcela 190 governi quindi non un pazzo esaltato che sale su una panchina al parco e dice questa cosa ma 190 governi dopo dieci anni non solo le droghe non erano sparite dal mondo ovviamente ma hai più droga più consumatori più mafia più narcotraffico più narcoterrorismo perché poi anche questo esiste allora a un certo punto ci sono le ragioni ideali ma ci sono anche le ragioni pratiche quando una politica fallisce non funziona anche se fosse stata con le migliori intenzioni senza credere ai complottismi quando una politica fallisce nella pratica bisogna prenderne conto e provare a cambiare anche perché quello che dovrebbe fare la politica cioè lavorare sulla concretezza infatti ho sentito ad esempio il dibattito che hai avuto da Ivan con Pilon e lui faceva una retorica di questo tipo eh vabbè la prossima volta invece di farvi una canna andate a fare l'amore ma tutte e due no a parte quello ma anche fosse cioè insieme non è una risposta ovviamente no cioè parlare del nulla è defletto ma come la frase di Salvini per il scongol di Ibra e non parlare dell'argomento perché si sa che non si hanno valide argomentazioni ma solo è morte è morte ma non si va nello specifico poi si continua solo a confermare il bias che ha mia madre questo è e invitiamo nel studio che ti devo dire ma lui con questa comunicazione sto provando quello che vedi là sulla schivania è importante non lo devi buttare quando fai pulizia che già mi è successo con la comunicazione di Salvini falleva proprio sulle persone come tua madre qua fascia che da lì già che andrebbe più nel particolare ma rimanendo sempre sulla posizione sua già darebbe più informazioni contro la sua causa è pure un approccio se questi politici che confermano i bias ormai vecchi e datati iniziassero veramente a parlare queste persone capirebbero che non hanno la minima argomentazione ma io c'è stoffa a caso che non parlano più di tanto cioè sembra quasi che parlando pur andando contro un po' falliscono infatti è meglio star zitti o essere sintetici con dei slogan del cazzo io percepisco questo se vogliamo proprio parlare di politica diciamoci anche chiaramente che i peggiori nemici di queste cause poi uno può non essere d'accordo quindi non do per scontato che siate tutti d'accordo ma i nostri peggiori nemici non sono gli avversari espliciti ogni volta che viene fuori qualcosa sull'eutanasia noi abbiamo il Vaticano che ripete che è una mostruosità che è la cosa la vita è sacra eccetera eccetera ok questa è una posizione chiara che è l'opposto di quello che noi proponiamo la cosa veramente insidiosa sono quelli che dicono di essere anche in parte d'accordo però non è ancora tempo aspettiamo non bisogna urtare le suscettibilità e la discussione non la vogliono fare cioè preferirei veramente uno e preferisco qualcuno che accetti il dibattito a questo serve il referendum il referendum servirà a che finalmente ciascuno scopra le proprie carte perché altrimenti come si dice dagli amici mi guardi il Dio che dà i nemici mi guardo io qui ci sono troppi amici che non fanno assolutamente nulla affinché si decida su questi temi e poi questa diciamo questo aspetto qui secondo me è da dividere tra ignavi cioè persone che non vogliono semplicemente schierarsi e persone che invece lo fanno consapevoli del fatto che questa cosa porterà al nulla di fatto tra l'altro volevo farvi una domanda a proposito della chiesa che la vita è sacra ok questa è una cosa per uscire un po' dal seminato però se il suicidio effettivamente è un peccato come tanti altri peccati esiste comunque il libero arbitrio quindi anche nella logica di un fedele lui dovrebbe lui fedele avere la possibilità di suicidarsi secondo il libero arbitrio solo Dio decide sulla vita e la morte degli uomini però il suicidio non è c'è stato proprio scritto sembra che col suicidio vai all'inferno è un peccato ma per tanti peccati vai all'inferno però scusatemi il libero arbitrio nel senso che intanto nella Bibbia Vangelo eccetera non c'è scritto niente lasciando perde quello diciamo per l'interpretazione sono tutte interpretazioni queste qua diciamo per l'interpretazione corrente e teologica come dici tu giustamente anche all'interno della chiesa c'è il principio del libero arbitrio tanto che in Belgio la chiesa cattolica è a favore della legalizzazione dell'interno ed è un paese cattolico ci sono fior di teologi che hanno sostenuto anche dietro l'espressione la vita è un dono e poi allora se è un dono da quando è qua un dono tu mi fai un dono poi però io il dono se a un certo punto lo devo gestire come dici tu quindi anche questo proprio tic verbali che ci sono è una contraddizione interna perché anche per esempio l'omicidio anche per l'omicidio tu chiaramente vai all'inferno bisogna entrare nell'ottica che tutti questi dogmi sono stati fatti per regolamentare una civiltà duemila anni fa questo è chiaro nella narrativa è chiaro che gli dici non te devi ammazzare in linea di massima questo è chiaro poi la morale si è evoluta e adesso secondo me si può con un discorso anche cattolico parlare di queste questo dicevo anche rimanendo nella logica che non è la nostra ok quindi quella diciamo teologica corrente diciamo semplicemente uno potrebbe dire beh se io comunque posso uccidere compiendo un peccato eventualmente pagando con Dio posso anche uccidermi anche uccidere in nome di Dio se proprio vogliamo rompere il cazzo e fare la solita retorica e le crociate non mi piace non mi piace fare a nessuno il suicidio insomma ripeto se c'è il libero arbitrio e se questa cosa effettivamente è stata ribadita anche da Cristo quindi voi siete liberi di sbagliare scagli la prima pietra eccetera beh posso sbagliare serve che il Papa ne parli allora soluzione pratica in realtà l'hanno fatto diversi Papi non si sono espressi positivamente su questo ne parli in maniera evoluta se ritorna la vita è sacra è solo il tuo discorso qui però se ci sono degli esempi di cristiani di cattolici che invece hanno appoggiato sempre secondo il libero arbitrio perché comunque uno potrebbe anche dire sì la vita è un dono e facendo questa cosa molto evoluta ti ricongiungi al tuo Dio come dici tu e non attraverso magari sofferenze inenarrabili no? e poi vabbè a parte pure la retorica della sofferenza in realtà è molto incentivata del cristianesimo quindi andrebbe pure contro sta cosa ma vabbè comunque servirebbe appunto una figura di spicco e di rilievo che parli di questa cosa come dici tu il dibattito è fondamentale che la gente assista a questi dibattiti in sede pubblica sì ma soprattutto perché un'altra cosa che viene fatta poi Marco ci correggerà il dibattito è proprio quello di buttare tutto in cacciara anche su questo cioè vabbè allora adesso lasciamo i medici liberi di ammazzare chiunque è chiaro che si finisce sempre con questi con questi estremi inutili queste iperboli dannose loro la chiamano teoria del pendio scivoloso ok che significa se non si mette più un paletto se tu autorizzi una cosa allora poi dopo tutto deve essere libero che è una teoria che va contro l'idea stessa del diritto della legge se tu la applichi non so ai licenziamenti cioè in alcuni casi è possibile licenziare è legale se io ho il dipendente che mi arriva tutti i giorni imbriaco in ritardo piglia per il culo gli altri dipendenti dopo un po' gli dico senti basta oppure se l'azienda è in deficit ho diritto a licenziare le persone perché se no non posso fare quindi se applicassi questo principio dovrei dire beh beh allora nessun licenziamento può essere legale perché se no anche un licenziamento discriminatorio per esempio io licenzio una donna perché resta incinta allora devo accettare quello no la legge dice che se è un licenziamento motivato lo posso fare se non è motivato non lo posso fare è semplice io voglio leggerti una domanda che ci ha fatto un ragazzo che ci segue Simone cosa hai imparato dalle persone che hai accompagnato per l'eutanasia domanda un po' intima ma guarda paradossalmente l'amore per la vita è anche una certa serenità nel guardare alla morte nel senso che io stesso c'è un po' d'acqua nel caso che state fumando va niente se c'è se c'è perché me sono attaccato va bene il fatto che per esempio racconto sempre di DJ Fabo che pochi minuti prima di morire disse guardate vi devo chiedere una cosa molto importante e tutti Fabo dici vi prego allacciatevi le cinture lui era morto cioè era morto aveva avuto un incidente un incidente d'auto e quindi pur essendo a pochi minuti della sua morte aveva avuto la lucidità di pensare ai suoi amici diciamo la vita del prossimo invece di pensare oddio tra pochi minuti io non esisto più pensare a volere bene quello ho trovato una grande per me è stata una grande lezione è vero che paradossalmente comunque ti insegna ad apprezzare di più la vita perché tu vedi comunque la storia di una persona che è arrivata ad un certo punto e ti spinge a riflettere su dove sei arrivato tu e anche le ultime parole bellissime abbiamo chiesto a Marco se potevamo fumare tranquilli perché hanno detto ma le Ducati non glielo avete chiesto abbiamo chiesto non ci aspettava che sarei c'è l'effetto bunker è così stiamo uccidendo basta sigarette l'effetto bunker è micidiale l'effetto bunker senti un'altra cosa che volevo chiederti in chiusura non so se è una mia percezione però tra tutti i politici anche se tu non sei proprio un politico chiaramente legato ad un partito eccetera e anche su questo secondo me è calzante la domanda mi sembri poco odiato diciamo così rispetto a tanti altri anche persone che hanno magari preso parte a battaglie radicali di questo tipo la domanda è intanto secondo te se fossi in parlamento questa cosa sarebbe diversa e secondo te perché? perché sei apprezzato e poco detestato purtroppo in Italia se tu dici politica la gente dà per scontato che stai parlando dei partiti e delle elezioni fai politica allora vuol dire che sei in parlamento sei in un partito ti vuoi candidare a qualcosa e quindi come nel marketing la concorrenza più feroce è tra quelli che sono simili cioè per un politico di partito il suo peggior nemico è il compagno di partito perché è quello che ti può fottere all'elezione e dopo il compagno di partito il secondo più pericoloso è quello di un partito simile al tuo che dice le stesse cose e quindi rischia di portarti via voti paradossalmente quello che la pensa proprio all'estremo posto all'estremo di destra all'estremo di sinistra tanto no nessuno mai che ti vota voterà quello quindi non è un competitore questa è una logica purtroppo che avvelena la politica se non è bilanciata anche da una logica sugli obiettivi cioè la politica per questo che fanno magari alleanze anche un po' forzate per evitare esatto però la politica è anche non è solo elezioni è anche partecipazione diretta referendum leggi di iniziativa popolare manifestazioni e allora lì invece quando tu proponi qualcosa di concreto il tuo alleato diventa chi la pensa come te anche se è di un altro partito per cui quando noi abbiamo iniziato a raccogliere le firme sull'eutanasia o sulla cannabis sono arrivate persone di partiti diversi ma che sono riuscite a lavorare assieme perché condividevano un obiettivo quello che manca in Italia c'è la politica della disgregazione e non c'è quella dell'aggregazione su obiettivo ecco perché io da ormai due tre anni ho rinunciato a fare politica candidandomi per portare avanti e potenziare la politica della partecipazione ed è forse questa la ragione quindi alla tua domanda avresti più nemici se fossi in Parlamento credo che la risposta sia sì io poi chiaramente ho detto non sei un politico inteso come all'interno del Parlamento ma sono ovviamente atti politici quelli che fai questo è chiaro sì non è un caso infatti che se vediamo anche i partiti al momento in Parlamento si somigliano un po' tutti c'è questa lotta alla sfumatura non so se avete notato dato che seguo assiduamente tutto il centro-destra per me è quasi un fetiche anche dalle pagine Instagram che sono parte della loro comunicazione io noto Forza Italia che è un po' il gemellino minore ormai ormai sì paradossalmente anche se era partito tutto da loro nei loro post mandano delle frecciatine agli altri due partiti a Fratelli e la Lega tipo è a differenza di come fanno gli altri noi non ci lamentiamo di cose vogliamo solo fatti concreti cioè mettono qualche informazione per far capire noi siamo meglio di quegli altri anche se siamo comunque simili quindi si vede che comunque non c'è comunicazione ma nemmeno si mettono d'accordo per quello che devono dire è un'alleanza così di facciata perché siamo il centrodestra quindi dobbiamo essere alleati anche se magari Forza Italia ha delle posizioni magari molto più liberali a volte degli altri due insomma poi è successo anche per esempio all'interno della sinistra nello stesso partito cioè come dice qualcuno ogni tre mesi c'è una scissione perché c'è quella sfumatura le notte peggiori ma ce le abbiamo avute pure noi ai tempi radicali quindi figuriamo tutti e tanti piccoli ah Marco tu vuoi far vedere una cosa vero a schermo come tanti piccoli ma non parlavamo di tanta propaganda contro l'eutanasia mi sono ricordato e chiede Marco come guadagni guadagno con l'associazione Luca Coscioni facciamo autofinanziamento raccolta fondi 5 per 1000 eccetera più che domanda era soltanto far vedere un po' la propaganda anche quando tu parlavi prima comunque dovete lottare contro il Vaticano e Maria a 70 anni ha un tumore potrà farsi uccidere e se fosse tua nonna beh proprio una comunicazione una retorica terrificante però questa è pro vita e famiglia che comunque però vedi anche questa si spende molti fondi per fare questa propaganda quando prima è stato detto che bisogna ascoltare comunque le storie delle persone in realtà è l'altra faccia della medaglia di un'argomentazione aneddotica no? nel senso perché questo invece è l'altro polo cioè io ho mia nonna e le voglio bene non voglio che muoia a differenza di quello che dice avevo mia nonna che soffriva molto e avrei voluto nel senso ha la stessa valenza cioè non è molto valida secondo me qual è però l'errore secondo me puoi rispondere a Marco ovviamente che quello che dice Marco è noi ad esempio accompagniamo delle persone che sono consapevoli ok del loro status ed è una loro scelta se tu dici questa cosa e se fosse tua nonna beh se mia nonna avesse tale consapevolezza non avesse un problema mentale come diceva prima io vorrei che lei potesse scegliere ovviamente poi qua si gioca sul fatto emotivo quindi oddio mi nonna eh ma se tua nonna diciamo che io come persona cioè se devo sposare una causa o meno mi lascio più trasportare da ragionamenti logici piuttosto che dalle emotività da una parte e dall'altra questo sta la logica di questo qual è secondo me nessuna perché perlomeno la il come si dice la fazione con la quale sono d'accordo ha anche delle prove logiche perlomeno però se sto dicendo che se si abbassa il dibattito solo alla pancia non si arriva da nessuna parte è pure una buonatà perché faccia caso quando tu magari devi parlare di te stesso spesso hai anche una visione un po' più cinica magari se c'è stava scritto c'hai 60 anni c'hai un tumore dici oh si ma ammazzo leggi tu nonna cioè è un lavoro fatto bene sì sì ma funziona appunto sulle persone che ragionano magari solo di pancia non sono abituate ad andare oltre allora in parte l'emozione fa parte della nostra vita quindi fa anche parte della politica per cui ognuno usa slogan perché a volte l'emozione aiuta anche a ragionare cioè io mi metto a studiare un problema perché ho visto una cosa che mi ha emozionato mi ha colpito allora dico oh andiamo a vedere come funziona effettivamente in questo caso questa pubblicità ecco non la trovo nemmeno troppo efficace nel senso sì quasi quasi a parte usare i termini crudi no farsi uccidere però credo che poi alla fine la maggior parte delle persone se gli dici se fosse mia nonna se fosse mia nonna e se fosse malata terminale con un tumore che volesse veramente farla finita ovviamente verifico che sia curata bene che abbia le cure palliative eccetera ma che cosa faccio poi gli impongo la mia volontà mi potrebbe dispiacere quindi non la trovo nemmeno così forse ho capito su libero arbitrio forse ho capito molte cose ho capito quelli che invece gli fa effetto mi preoccupa un po' il loro mentalità non arrivano a ragionare su libero arbitrio la libertà della nonna malata forse ho capito su quale sentimento gioca questa pubblicità l'egoismo perché molto spesso le persone anziane vengono viste da alcune famiglie magari hanno appena abbiamo aperto si sentono le ambulanze la polizia proprio a palla giocano sul fatto che comunque spesso una persona molto anziana magari ha bisogno di cure alla fine sia una grande responsabilità della famiglia e questa persona delega un po' la sua vita succede anche nella mia famiglia chiaramente ci sono delle persone che vivono magari a carico di genitori eccetera sabbalchitano ok top vabbè quindi quindi si gioca sull'egoismo del ok questa persona anziana è quasi non voglio dire un oggetto ma un qualcosa che noi abbiamo a carico e quindi io posso decidere per la sua vita su questo gioca io non voglio non voglio prendermi la responsabilità di lasciarle la libertà però questa cosa è anche offensivo contro gli anziani comunque come se dovessero ripeto se c'è un conto è una non totale autonomia fisica quindi una persona molto anziana mentale aspetta qua è diverso fisicamente ha bisogno della carrozzina ha bisogno dell'abbadante o del genitore eccetera e quindi tu la tieni in casa perché non è autonoma ma può essere benissimo autonoma mentalmente quindi di scegliere questa cosa appunto e invece se subentra la non autonomia mentale torniamo a quello che diceva Marco allora lì non c'è neanche il discorso dell'eutanasia perché lei non ha la consapevolezza per scegliere questo è giusto allora ma Simone vuole leggere questa cosa che dicevamo di forza Italia era l'argomento di prima no perché mi sono ricordato il post quindi dicono appunto dobbiamo dobbiamo andare avanti secondo la nostra natura di persone serie vabbè inquadra lo schermo qua sotto famo prima senza che se mettiamo a scarnifica dobbiamo andare avanti secondo la nostra natura di persone serie e composte quindi a differenza degli altri parlando delle soluzioni che si possono dare ai problemi senza fare sterili polemiche che purtroppo anche in questa stagione sentiamo spesso fare da tutti gli altri ed è il giorno della polemica con la Meloni quindi pur stando in alleanza si vogliono comunque differenziare è sottile ma sì ma infatti la pagina di Berlusconi ho visto che negli ultimi anni anche quella di Forza Italia sta lavorando proprio su questo cioè darsi un tono più istituzionale perché alla fine diciamo il boss si è un po' messo da parte anche per ragioni anagrafiche di salute e quindi si sta cercando di cambiare un po' veste al partito che è stato uno dei primi in realtà molto folcloristico proprio in virtù della figura di Silvio tutta gente seria professionisti una destra ragionevole in contrapposizione magari sì a Meloni che è molto più diciamo tosta nella comunicazione anche un Salvini quindi è sensata come scelta di marketing in realtà anche perché stai in alleanza però i voti devi prendere pure tu quindi devi comunque creare un'alternativa visto che dal punto di vista ideologico le differenze non sono molte quindi si gioca proprio su piccole differenze si fa questo però significa che è una politica in realtà povera di ideali e di progetti anche seri però in realtà io pure tra di loro ad esempio la Bernini mi pare che se pure lei l'ho sentita parlare di magari diritti LGBT di legalizzazione di cose del genere che magari in altri partiti sarebbero o non lo conosco io però è vero il discorso che tra i vari partiti ci sono dei singoli politici che magari aderirebbero a queste cause solo che per logiche politiche di partito ovviamente devi un po' obbedire si si è chiaro beh Marco allora una sopravvissuta non c'è più fumo quindi è disobbedienza civile disobbedienza civile basta che lo dicevi no te ne devi andare grazie una fumeria beh Marco tante grazie grazie a voi molto interessante un piacere vorrei informarmi pure su tue prossime attività perché mi sento molto in linea con quello che ti ringrazio molto allora io ho un canale youtube che ho aperto da poco grazie a Giacomo Moro Mauretto che tra l'altro ci ha messo in contatto quindi grazie a Giacomo di Entropy for Life una newsletter un sito marcocappato.it e oltre all'attività dell'associazione Luca Coscioni e poi di questa strana cosa che chiama Eumans che è un movimento paneuropeo di iniziativa popolare che vuol dire che è una sorta di partito che agisce in una dimensione europea ma senza presentarsi alle elezioni quindi attivando gli strumenti della partecipazione insomma tutti quelli che sono interessati quindi portando avanti delle idee immagini esatto degli obiettivi delle iniziative di mobilitazione ma non direttamente elettorali un chat moderatore se volete linkare intanto il canale di Marco YouTube dicono top live siamo molto contenti di questa cosa grazie per firmare anche allora per firmare ti dovevi svegliare prima no perché il referendum no no vabbè ma l'abbiamo fatto in live l'abbiamo messa l'abbiamo fatta in live è vero l'abbiamo fatta in live pensavo ci fosse un luogo proprio dove andare prima c'erano i banchetti poi hanno fatto adesso faranno anche qualche banchetto fisico è rimasto qualche settimana fa Marco è vero abbiamo firmato pure per futuri referendum dai per i prossimi va bene te la diamo buona te la diamo buona ciao ciao ragazzi grazie grazie Marco ciao ciao non mi sento molto bene non mi taglierò le vene mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte sono a casa in cadene gli altri escono tutti insieme ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte c'è il vero po 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 podcast c'è il vero po 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 podcast ma ramichi lì c'è i debè lei murla rana 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 c'è il vero po 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 Grazie a tutti.